Ciao a tutti Dunque dobbiamo combattere contro Toga che non dovrebbe essere molto complicato Shergur Araka? In teoria non avrei mai usato a Tsuyu quindi andiamo con lei Proviamo Capilano, come si? È un gioco Siamo due ragazze Uraraka e Asui Se non ci vuole, non ci vuole Non ci vuole Mi piace molto Ok la cosa è È particolare la cosa Non dico nulla perché O meglio Non so fin dove arriva questo Mairo Accademia però se dovesse Arrivare Fino all'incontro di All Might Contro appunto All for one Allora potrei dirlo ma non so dove arriva di preciso Quindi non posso dire nulla Ok con la lingua Praticamente attacco a distanza ok Mi pare giustissimo Mi pare E si va Eh vabbè allora Aspetta ma ma Ah mi ha incatenato Buono Andiamo un po' Con la lingua Davvero Ah eccola Eccola A posto posso dirvelo allora Lei bevendo il sangue di una persona Ne assume l'aspetto Semplicemente Eccola qua Dato che l'ha fatta Te lo dico Sì ma ha avuto un contraccolpo tremendo Perfetto Rango A Bonus B Per quale motivo Eccola 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 ...d'acchè si senti a vedere questo... ...d'acchè... ...di... ...d'acchè... ...MuranaKa?! ...Midoria, tutti! ...Deku che gli aiuti a dare a giverte... ...d'acchè... 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 ...Deku che è molto... è il mio stesso profumo non è proprio un profumo profumo quelli che si spruzzano è un altro tipo di profumo però è un po' esagerata la cosa non è che le donne sono animali è molto diversa la cosa e vediamo un po' allora anche il filmato purtroppo a solito c'è un filmato no c'è un filmato Perfetto. Potevano spiegarlo anche in un'altra maniera. Nel senso, ora c'è la storia da fare. Ah! A questa. Lei contro il Noomu? Non mi ricordo proprio di questa cosa. Non mi ricordo sinceramente di questa lotta. Non penso che mo le creino dal nulla. Ah, sì, insieme a quello che appiccica le cose. Giusto, giusto. Ma non mi sembra che lo affrontino direttamente. Noomu, non mi sembra che lo affrontino direttamente. Noomu, non mi sembra che lo affrontino. Ma non mi sembra che lo affrontino. Non mi sembra che lo affrontino. Wow Però fa male comunque No questo è meglio farlo Da vicino Le bombette No vabbè Bene 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 La battaglia volante facciamo Eccolo No porca miseria Però in qualche modo l'ho preso Ecco Perfetto Con la lancia sarebbe la cosa migliore da fare Attaccarlo Anche se poi lei comunque sia Usa attacchi pesanti quindi Non è proprio facile usare come personaggio Dovrei prenderlo E invece no Preso alla fine Però cavolo Eh meno male Non è male come personaggio Per picchiare però comunque sia Dato che comunque sia si basa Basa i suoi attacchi sul bonus Eh vabbè Basa i suoi attacchi sulle arme E sui colpi potenti E sui colpi potenti Devastanti Non è facile comunque sia Attuare una certa strategia Contro un personaggio come Nomu Che è solo fisico Sì qua la richiamati E sui colpi potenti Ok ora possiamo andare al capitolo Ok ora possiamo andare al capitolo Ounque Comunque Climax Contro Toga Allora Siamo a Midoriya Abbiamo anche Shoto Oddio Forse era meglio Giocare con Shoto Perché Midoriya Troppo mainstream Ma sinceramente non mi interessa Se è a mainstream o no Preferisco giocare con personaggi Che mi piacciono E che sa usare E che mi piacciono 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 Vuoi che io sanguini di più Cavoli Ok dovrebbe già aver assorbito Un po' di sangue Ma non ne sono sicuro In teoria Non dovrebbe neanche combattere Midoriya Però Aspetta Aspetta Sto sbagliando Tutto sto sbagliando Era troppo distante Quello è un attacco Che colpisce molto Da vicino È carico Todoroki Eccolo va Porca miseria Ma Ma Ha Ha distrutto Todoroki Con un attimo Ma chi è questa Non ci credo Non ci credo Non ci posso credere Non ci posso credere Vai vai rifacciamo Rifacciamo Ma sto tirando In su Porca miseria Perché non ci va In su Non intendo Vabbè Lasciamo perdere Eccolo Mo che non mi serve Lo fa Eccolo va Preciso in faccia Perfetto È andata No Ancora un briciolo Di vita C'ha Beh Ma Allora Le cose sono due Omidori È debilitato E quindi C'ha Molta Molta Meno potenza Del normale Oppure È lei che è Indistruttibile Mi Perfetto Mi 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti